Gentili telespettatori ancora una volta ben ritrovati e soprattutto benvenuti ad uno dei nostri spazi di approfondimento dei mille secondi in onda dedicati all'attualità, l'attualità in questi giorni non può prescindere da quello che ci propinano tutti i telegiornali, le trasmissioni di approfondimento delle reti nazionali, dei media nazionali dal rischio nucleare per quello che sta accadendo in Giappone e soprattutto per la crisi libica che sta avendo dei momenti di tensione notevole. Abbiamo l'opportunità, il piacere, l'esclusiva se vogliamo di colloquiare con il professor Antonio Palmisano nativo di Carovigno ma un intellettuale a 360 gradi se vogliamo perché ha esperienze di insegnamento, attualmente se non ricordo male insegna a Trieste, all'università di Trieste però ha un'esperienza notevole, è un antropologo, si interessa di geopolitica, è la persona giusta per parlare di quello che sta accadendo in questi giorni. Intanto grazie per averci ricevuto in questo splendido locale che ha un'attinenza familiare se non vado errato. Carovigno, da Carovigno poi dopo nel mondo, girato il mondo quasi in assoluto, in questi giorni quello che sta accadendo la richiama a esperienze già vissute oppure è una novità assoluta per lei, quello che stiamo vedendo soprattutto in Libia, partiamo da questa attualità. Beh, intanto grazie per questa domanda che è una domanda alla quale posso rispondere con una certa tranquillità e serenità. Mi occupo proprio di conflitti e di soluzioni, processi di soluzione dei conflitti dal 1985, quindi oramai sono già più di 25 anni che mi occupo di questo tema. Ho lavorato a lungo, sia insegnando questa disciplina che in Italia non è ancora molto rappresentata, insegnandola per esempio a Leuven, lavorando a Berlino, in università come quella di Kabul, come quella di Addis Abeba e soprattutto ricercando e poi fornendo consulenze ed expertise per organizzazioni internazionali o anche il nostro Ministero degli Esteri. Quindi diciamo sono temi con i quali ho a che fare da moltissimi anni. Dunque le situazioni alle quali si sta riferendo sono situazioni che ho vissuto direttamente in questi decenni. Ho lavorato a lungo in Afghanistan nel programma cosiddetto Giustizia, che era il programma affidato dalla Convenzione di Bonn al nostro governo, al nostro paese, meglio dire. Allora si parlava del governo Prodi, quindi vi era una possibilità di interazione decisamente maggiore rispetto a quanto non accada oggi. Oggi sembra che le decisioni vengano proprio calate dall'alto, indipendentemente da quello che possano dire gli esperti o i consulenti dei quali io faccio parte. Per quello che riguarda situazioni di conflitto oggi nel mondo, possiamo dire un qualcosa di generale. in un'epoca come la nostra, che è caratterizzata da una spaventosa crescita economica ma finanziaria, non commerciale né produttiva, ma finanziaria. Le guerre che si stanno configurando sono guerre che non hanno a che fare nulla con le guerre del passato. Infatti oggi si parla per esempio di guerra liquida, oppure si parla di forme molto particolari della guerriglia. Quindi non possiamo riferirci a vecchi schemi per comprendere quello che sta accadendo oggi. Quando leggo giornali, facciamo caso sull'Afghanistan, che è una situazione che conosco molto bene perché ho vissuto a lungo in Afghanistan durante il conflitto, ancora in corso. Ho situazioni come quelle nordafricane, paesi che conosco perché da oltre 35 anni frequento molto intensamente. Mi rendo conto che vi è una notevole disinformazione. Per esempio la questione Libia-Gaddafi. Leggo sui giornali, Gaddafi è finito. Immediatamente abbiamo avuto politici italiani che hanno fatto un dietrofront clamoroso rispetto a quelle che erano le loro relazioni. Avevamo assistito alla tragica scena di un primo ministro italiano che bacia le mani a un personaggio come Gaddafi e assistiamo a qualcosa di ancora più tragico e cioè lo sbattere la porta in faccia a un capo di Stato come se niente fosse contando sul fatto che la rivolta avrebbe avuto successo immediato. Quando è accaduto questo, già con i primi tre giornali, io immediatamente ho detto pubblicamente che non se ne parlava proprio che la situazione volgesse al peggio per Gaddafi in tempi così brevi. Perché? Perché chiunque lavori sul serio sul Medio Oriente sa che vi sono dei processi politici ed economici medio orientali tali per cui non esiste assolutamente che possa terminare un qualcosa del genere in tempi brevi. Quindi avrei e mi sarei augurato una maggiore prudenza diplomatica da parte di tutti. I conflitti non si risolvono schierandosi immediatamente dalla parte dell'uno o dell'altro e contando su una vittoria rapida o dell'uno o dell'altro. Come insegnano tutti gli studiosi oggi, i conflitti non sono come delle partite di pallone dove c'è qualcuno che vince 1 a 0, 2 a 0, 3 a 1 oppure si fa un pareggio e c'è poi la rivincita. Nulla di simile il conflitto oggi, men che meno in un'epoca come quella che avevo iniziato a definire precedentemente, cioè un'epoca all'interno della quale tutta l'economia è un'economia finanziaria. Questo è il contesto globale. I contesti locali fanno i conti e come con questo? Dunque va articolata diversamente l'analisi rispetto a quanto poteva accadere in passato. Per esempio, nel caso della Libia, la Libia ha una struttura sociale e un'organizzazione sociale assolutamente differente da quella di una società occidentale e questo non ha nulla a che fare con l'Islam. Indipendentemente dalla presenza di una religione o di un'altra, l'organizzazione sociale di un paese come la Libia è specifica e cioè è una società che basa se stessa, il proprio ordine, sul configurazione degli equilibri fra tribù. Primo punto. E questo è qualcosa che ovviamente sfugge del tutto agli analisti che ragionano secondo linee classiche geopolitiche, all'interno delle quali io vedo lo Stato, vedo le grandi potenze, vedo i deterrenti atomico-nucleari o quello che è la vecchia bipolarizzazione Unione Sovietica-Stati Uniti d'America. È ancora presente nelle menti di questi analisti, ma il mondo non ha nulla a che fare con quel quadro così semplice, è infinitamente più complesso. Un uomo come Gaddafi è un grosso mediatore all'interno, per quanto possa sembrarci paradossale, all'interno di quelle realtà tribali. Questo significa che anche con le armi in mano vi è un margine di trattativa notevole fra Gaddafi e gli insorti. Schierarsi immediatamente dalla parte degli insorti o dalla parte di Gaddafi significa non voler arrivare a mediare in un processo che è altamente conflittuale. Quello che è stato l'intervento del nostro Paese fino ad oggi, per quello che mi riguarda, è pessimo, sia dal punto di vista diplomatico che dal punto di vista militare o dal punto di vista economico. Quello che hanno fatto Paesi come la Francia è anche pessimo. Se si è interessati a mediare all'interno di un processo ad alta conflittualità, se si è interessati a parlare di democrazia, visto che tutti hanno fatto immediatamente riferimento a democrazia, il vecchio grande imperativo per cui la democrazia va esportata, Gaddafi è un assassino, gli altri non sono assassini. Non è che Gaddafi sia una persona che io non possa giudicare un assassino, per quello che mi riguarda lo è e come. Ciò non toglie che anche gli insorti possono essere degli assassini. La posizione di un Paese dell'Unione Europea, posizione che uno si augura, è una posizione con capacità mediatorie, cioè di mediare all'interno di una situazione così grave. Mediare perché la situazione non solo è grave, ma può nettamente peggiorare. Mi posso aspettare che ci sia oggi o anche ieri addirittura o domani sicuramente un numero enorme di persone che soffriranno moltissimo per quella che è la situazione attuale. Posso prevedere con facilità decine di migliaia di morti che già sicuramente ci sono, posso vedere già centinaia di migliaia di persone che migreranno e non mi riferisco alle paure della Lega, tanto per essere chiari. Non è quella la posizione accettabile. Non è che io intervengo in un processo di conflitto e tento di mediare, quindi di smorzarlo, solo perché ho paura di 100 o 200 mila immigrati che mi piomano all'improvviso. Non è questo il ragionamento che deve fare un Paese democratico, quale è e dovrebbe soprattutto essere l'Italia. Non posso avere timori di questo. Io come Paese ho il dovere di intervenire nel processo di mediazione, non in un processo di fomentazione di quello che è già un conflitto. Sono due prospettive totalmente diverse. Non posso fare né come Sarkozy, né come il Ministro la Russa o come Berlusconi o come Bossi, essere per soluzioni che chiamiamole ultra rapide. Ti mando 150 Rafale o 200 Tornado, eliminiamo la contraerea, controbombardiamo. Queste sono forme di neocolonialismo, nient'altro che questo. È evidente che chi si presenta in questa maniera in Africa, perché in Africa l'immagine che ha Gheddafi, di cui gode Gheddafi, invece è l'immagine di un liberatore. Per quanto questo possa essere sconcertante per noi, ci sono molti Paesi africani che vedono in Gheddafi una sorta di alfiere nei confronti proprio di queste azioni occidentali di prepotenza. Quindi ci troviamo a non capirci proprio con questo mondo e non ci capiamo perché noi siamo in grado di leggere cose semplicissime. Per esempio il tappeto che qui ha alle spalle è un esempio di logica orientale. È un tappeto tunisino. Chi sta tramando conosce già quale sarà il disegno finale. Chi invece osserva il tappeto mentre lo si costruisce, ed è un lavoro lungo e faticoso, non ha assolutamente negli occhi quello che sarà il disegno finale. A meno che non si lavori nella prospettiva della società che lo sta costruendo. Allora, che della Libia e di questi Paesi parlino esperti che conoscono già quelle che sono le trame principali e non ci si ecciti tanto mentre si vede fare un nodo di un determinato colore perché le cose sono infinitamente più complesse. A meno che uno non voglia arrivare con i piedi dell'elefante dentro i negozi di Porcellane, che è quello che è stato fatto finora. Voglio salvare, come è giusto che sia, la zona di Bengasi? Perché è evidente che lì ci sarà una repressione di una violenza inaudita. Voglio salvare e allora devo iniziare a mediare come si deve. Non posso mediare con azioni di guerra di quella fatta. Non ha nessun senso questo. Otterrà l'esatto contrario di quello che dici di essersi prefissato.